Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un saluto a tutti voi telespettatori di CatalanTV. Apriamo anche oggi il nostro giornale con la politica e con le polemiche che non si placano sulle spese della Fondazione Alghero. Franca Carta, coordinatrice della lista per Alghero, difende le scelte fatte dall'amministrazione Bruno. Attaccata però dal Comitato di Borgata di Maristella, qui dice non si è visto nemmeno un euro. Non c'è nessun buco nel bilancio della Fondazione Alghero. L'ex consigliera comunale difende le scelte fatte dall'amministrazione Bruno. Meschi un mes, quasi tre mesi di eventi a cui si aggiungono nel 2018-2019 altri tre mesi di iniziative dedicate agli anziani ospiti dell'ex ostello, che ha visto il coinvolgimento delle associazioni cittadine e dei giovani. La Fondazione Alghero ricorda che la verità vera è che la cifra tiene conto di tutti gli eventi, non solo del Capodanno e non di una sola notte. La carta cita gli eventi che Alghero è ospitato nel Cinquegno Bruniano e che a suo dire hanno accresciuto l'immagine della città. Quindi ricorda che ha aumentato il valore della produzione, passato dai 2 milioni del 2011 ai 2 milioni 930 mila del 2018. La Fondazione è un patrimonio proprio che prima non aveva il bene acquistato per realizzare parcheggi e servizi nel presigioso sito archeologico del Nuraghe Palmavera. La Fondazione e il Comune hanno risorse importanti derivanti da finanziamenti europei. Il bilancio è sano, ribadisce la coordinatrice di Peralghero, attaccando poi il centro-destra. I debiti, semmai, sono quelli che ci ha lasciato la gestione con Ocide Logu. Quando hanno creato la Fondazione avrebbero dovuto richiamare il personale dell'ex azienda autonoma, ma non lo hanno fatto, generando in questo modo un debito importante. Senza troppi pianistei, ci siamo rimboccati le maniche e richiamati un'amministrazione il personale. Operazione, peraltro, gestita dai dirigenti comunali e della Fondazione e quindi fatti carico di compensazioni tra la stessa e il Comune, con un piano di rientro quinquennale proprio per non incidere più di tanto sulla programmazione della Fondazione e sulla sua liquidità. Da qui il totale di 831.000 euro che la Fondazione deve al suo socio unico. La nuova gestione, se risolti i problemi politici tra le otto liste, verrà fuori, potrà agire con variazioni di bilancio nella voce 20, distinta chiaramente da quella del personale, decidendo di confermare o meno iniziative già programmate o risorse già impegnate, prosegue la carta. Le risorse in incremento delle grotte potranno consentire una programmazione all'altezza della nostra città, se ne saranno capaci. Potevano già farlo in questi primi quasi 100 giorni, ma non hanno mosso un dito, attacca ancora la carta. Ci preoccupa molto il fatto che siano invece in dubbio, questo sì per la prima volta, in finanziamenti regionali per Capodanno e Settimana Santa, che invece di Gangi incassa senza nemmeno una parola di disapprovazione, mostrando grande debolezza nei confronti della regione. Insomma, la smettano di piangere e cominciano a programmare i prossimi eventi senza scaricare le loro incapacità su chi in precedenza ha lavorato sodo, mettendo in campo proposte per tutti i gusti ed eventi che hanno visto Alghero sotto i riflettori internazionali, conclude la carta. Stupore, meraviglia, indignazione, nella prendere dai media che lo scorso anno Meschiummes pare sia costato alle casse della Fondazione Alghero ben 525 mila euro. Sarebbe quanto meno opportuno che gli amministratori di allora chiarissero innanzitutto quali iniziative fossero comprese nel contenitore denominato Meschiummes, a scriverlo in una nota Tonina De Zogos, presidente del Comitato di Borgata di Maristella. Ad esempio, erano comprese anche le iniziative di Mondo Rurale in cui le borgate dell'Agro di Bonifica furono coinvolte con promesse e impegno di un rimborso delle spese sostenute? Si chiede, se così fosse per trasparenza chiediamo che venga reso pubblico l'elenco di eventuali associazioni e comitati o altro, destinatari di eventuali rimborsi e finanziamenti e per quali attività svolte. Il nostro Comitato di Borgata ricorda la De Zogos con l'associazione Edu Eco Agro Maris di Maristella. Ad esempio, hanno organizzato l'evento Sosfruttos desaterra, non ricevendo a tutt'oggi nemmeno un euro di rimborso spese dalle sostenute documentate. È bene ricordare che i comitati sono liberi associazioni tra volontari che dedicano parte del loro tempo libero, sottraendolo agli affetti familiari, alle attività sociali del quartiere di riferimento. Impensabile sostenere anche spese per iniziative che dovrebbero essere finanziate senza nessuna esitazione da quei fondi generati in loco, vede ad esempio introiti delle grotte di Nettuno. Fondi che, come al solito, vengono invece dispersi altrove, conclude la Presidente del Comitato di Maristella, criticando evidentemente l'amministrazione Bruno. Terza Commissione consigliere al lavoro questa mattina nell'Aula di Via Colombano per affrontare la situazione dei parcheggi interrati di Piazza dei Mercati. Presente anche l'assessore alle opere pubbliche e manutenzione Antonello Peru. Nel corso della riunione di commissione sono state segnalate le criticità, in particolare la presenza di rifiuti frutto dell'abbandono indiscriminato da parte di troppi incivili. Anche nel nostro Tg in passato abbiamo denunciato i raid vandalici. Per questo da più parti si chiede l'installazione di un impianto di videosorveglianza. Questo pomeriggio invece sempre nell'Aula del Consiglio Comunale si riunirà la quinta commissione, quella all'ambiente, preseduta da Cristian Mulas. Si parlerà del parco di Porto Conte. Alla seduta parteciperà anche il direttore Mariano Mariani, oltre all'assessore Andrea Montis, al dirigente e al funzionario del settore ambiente. Maggioranza che in tempi stretti dovrà, tra l'altro, rinnovare il CDA del parco. E sulla seduta di questa mattina invece sentiamo la Presidente della terza commissione, Monica Pulina. In Commissione Lavori Pubblici oggi portiamo all'attenzione la situazione del parcheggio seminterrato di Piazza dei Mercati. È un argomento fondamentale e importante perché il parcheggio di Piazza dei Mercati sono tantissimi, si tratta di problemi di ordine strutturale, di ordine sociale, di ordine pubblico. Purtroppo lo stallo è spesso oggetto di bivacchi da parte di tossicodipendenzi, ci sono stati casi di spaccio di sostanze stupefacenti. È oggetto di bivacco notturno da parte dei giovani, soprattutto, ripeto, nelle ore notturne creandone un pochi problemi all'ordine pubblico. È stato oggetto di atti vandalici. Insomma, è necessario oggi porre all'attenzione della Commissione tutta una serie di azioni correttive e preventive per migliorare questo importante servizio per la città. Sui pescatori algheresi sono necessari ascolto e soluzioni. Ornella Piras e Raimondo Cacciotto intervengono sull'argomento, rimarcando tra l'altro il rischio di non vedere finanziato il progetto per il recupero dei rifiuti in mare a valere sui fondi FEAMP. Dopo le promesse e le parole spese in campagna elettorale da parte dell'assessore regionale Murgia rispetto alle richieste dei pescatori sulla proroga dei termini della pesca all'Aragosta, ci saremmo aspettati un comportamento conseguente. Invece è arrivata una risposta negativa e tutto questo dopo un silenzio tombale a termini scaduti e solo davanti alle rimostranze a mezzo stampa dei pescatori. Questo è il commento dei due consiglieri comunali del gruppo Futuro in Comune, Ornella Piras e Raimondo Cacciotto. Non solo, era stato promesso un incontro da convocare d'urgenza per affrontare l'emergenza del settore e ad oggi non c'è ancora nessuna convocazione. Ma la cosa ancora più preoccupante, proseguono, è che a dispetto degli annunci fatti ormai sette mesi dalle elezioni, l'Aggiunta Solinas non si è attivata in alcun modo per dare continuità e copertura finanziaria a progetti improntati proprio a salvaguardare il lavoro dei pescatori algheresi come quello a valere sui fondi FEAMP legato al recupero dei rifiuti in mare. Nel frattempo sono state bandite altre linee di finanziamento e i nostri pescatori si chiedono Cacciotto e Piras ricordando che il progetto del Comune di Alghero è risultato idoneo ed è secondo in graduatoria. Per il disinteresse e l'immobilismo che finora hanno caratterizzato l'assessorato competente, i pescatori algheresi vedono fortemente a rischio la possibilità di contare su una forma alternativa ai reddito in grado di compensare l'impossibilità di pescare in caso di condizioni meteorologiche avverse e il nostro mare vede allontanarsi la possibilità di procedere alla rimozione delle reti e delle nasse abbandonate. Ci aspettiamo che il sindaco si faccia promotore di un tavolo di confronto fra regione, comune e marinerie algheresi e che ci sia attivi per sbloccare finalmente i fondi FEAMP legati al recupero dei rifiuti in mare. È necessario ora più che mai ripartire dal lavoro sia quello dei pescatori che da quello finora non pervenuto della politica, proseguono i due consiglieri di centrosinistra. Alghero è distante da Cagliari e questo nonostante la presenza del presidente del Consiglio regionale che aveva accompagnato la murgia nella passerella elettorale e nonostante il suo partito esprima nell'aggiunta comunale algherese proprio l'assessore allo sviluppo economico e quindi con la delega al settore pesca finora caratterizzata da un torpore e un immobilismo politici imbarazzanti. Come gruppo consigliare Futuro Comune, concludono Piras e Cacciotto, ci rendiamo disponibili fin da subito a collaborare e continueremo a portare la pesca all'attenzione della città e del nostro Consiglio Comunale. Ci fermiamoci alla pubblicità tra poco. Ritorniamo in studio. Non è possibile che a due passi dalle giostre frequentate da tanti bambini il porto di Alghero versi in queste condizioni. rifiuti, ferri arrugginiti, batterie, barattoli e vernice. Questa la denuncia pubblicata dalle gambienti Alghero sulla pagina Facebook con tanto di foto a testimoniare l'incresciosa situazione venutasi a creare. Al di là di questo aspetto che denota una scarsa sensibilità delle persone e l'incività di molti a proposito del porto di Alghero, nei giorni scorsi diversi cittadini hanno segnalato l'assenza di illuminazione nell'aria attorno al mercato del primo pescato. Un'intensa mattinata di sensibilizzazione ambientale insieme a tanti volontari invece che si sono ritrovati nella pineta di Maria Pia, quella svoltasi domenica mattina. Si è trattato dell'iniziativa We Love the Sea organizzata da Rotaract Club Alghero per ripulire il litorale. Tanti volontari, entusiasmo, amore per il nostro ambiente, ma soprattutto tanti giovani che hanno voluto contribuire all'iniziativa, ha commentato il sindaco Mario Conoci, che ha partecipato all'iniziativa assieme all'assessore all'ambiente Andrea Montis e alcuni consiglieri comunali, tra cui Tatiana Argiola, snunzio a Camera dei Giovanni Monti. La Global Action ci ha visti coinvolti, sottolinea il primo cittadino, è un momento importante di sensibilizzazione per una maggiore attenzione e rispetto del mare, partendo dal modificare le proprie abitudini quotidiane. Amiamo Alghero, il nostro patrimonio ambientale, lo dimostriamo con i fatti e anche con i sacchi pieni di rifiuti che l'inciviltà produce, purtroppo senza sosta. Importante la giornata di domenica, una giornata di promozione del rispetto del mare, di informazione sul tema dell'ecologia marina, di sensibilizzazione all'utilizzo dei prodotti ad impatto ambientale ridotto, sensibilizzazione al tema dei rifiuti marini. Ed è stata una grande festa, quella organizzata sabato dalla consulta del volontariato della città di Alghero, rappresentanza delle associazioni aderenti, il centro di servizio Sardegna Solidale e Sasol Point 19 di Alghero, in collaborazione ovviamente con tutte le associazioni di volontariato. La festa delle associazioni di volontariato algheresi, Farrete organizza simili eventi per far conoscere ai cittadini di Alghero tutte le risorse che il vasto mondo del volontariato dispone al servizio di tutti gli abitanti del territorio. Le associazioni operano in tutti i campi di interesse, sociale, culturale, ricreativo, sportivo, sanitario, ma anche tutela dell'ambiente del paesaggio, tutela degli animali, tutela dei diritti e protezione civile. Lo slogan della giornata del 14 settembre è stato verso un'idea comune che già sintetizza l'obiettivo che si sono date le associazioni che hanno partecipato. Prima dell'apertura dei gazebo di ogni singola associazione, il saluto delle autorità civili e di tutti i volontari e cittadini alla presenza dei vari presidenti e vice della consulta e delle associazioni presso il seme della solidarietà. La scultura del maestro Pinuccio Sciola, posizionata nella ruola sotto l'albero di piazza Pinopiras, che simboleggia un seme di pietra che venne donato dallo scultore sardo a tutti i volontari della Sardegna. Con lo slogan volontari facciamo la differenza e lasciamo un seme. Alle 19 in occasione del ventennale delle attività del CSV Sardegna Solidale è stato inoltre scoperto il manifesto in ceramica artistica che rappresenta il mondo del volontariato, con la dicitura Non è più tempo di navigatori solitari, cambia, rotta, scegli di essere un volontario ed è un evento che ha interessato più di 40 comuni della Sardegna. Per tutta la serata attività, musica e tanti movimenti di divertimento per grandi e bambini di socializzazione hanno caratterizzato questa festa bella e riuscita. Ed ora ci lasciamo, c'è l'ultima pausa per la pubblicità. Musica in terza parte del nostro telegiornale perché 15 anni fa se ne andava Juni Russo ma la sua voce e una delle sue hit intramontabili come Alghero sono pezzi di storia della musica italiana e per noi algheresi è anche un vanto. Il successo intramontabile di brani come Un'estate al mare, Voglio andare ad Alghero e il suo grande fascino hanno permesso anche alle nuove generazioni di conoscere e apprezzare Juni Russo. La cantante nata in Sicilia dalla voce inconfondibile e meravigliosamente coinvolgente è mancata ben 15 anni fa ma la sua arte musicale continua a risuonare in tanti luoghi, Alghero compresa. Nella nostra cittadina infatti anche un angolo di estremo pregio come il Colle del Balagher è stato intitolato a questa grande artista come Mirador Juni Russo, un'artista mancata sicuramente troppo presto. La sua coautrice e produttrice Maria Antonietta Sisini e l'incontro con il maestro Franco Battiato segnarono una svolta importante per la carriera di questa voce meravigliosa che voleva andare ad Alghero in compagnia di uno straniero. Un successo davvero intramontabile e che riecheggia ogni estate e non solo. Davvero una hit intramontabile questa di Juni Russo passiamo allo sport chiudiamo appunto con lo sport perché con Francesco De Rosa e Giancarlo Salteri abbiamo parlato delle novità soprattutto in casa Mercedes Basket Parliamo di basket femminile e non solo quest'oggi parliamo del mondo Mercedes siamo in compagnia di Francesco De Rosa e Giancarlo Salteri Francesco De Rosa squadra femminile che ormai quasi pronta all'inizio del campionato si parte tra meno di due settimane Sì, il campionato inizierà il 5 ottobre come da calendario che ci è stato comunicato la settimana scorsa siamo otto squadre noi dovremmo iniziare in casa contro lo spirito sportivo ci aspetta un campionato sicuramente un po' più impegnativo rispetto all'anno scorso dove abbiamo disputato la Serie C però essendo arrivate seconde lo scorso anno vorremmo comunque fare un campionato similare quindi rimanendo nelle posizioni di vertice Quindi Serie B con l'obiettivo di magari salire e tornare in A2? Guarda, la formula la sapremo intorno a dicembre ossia adesso conosciamo la formula del campionato che sarà andata a ritorno poi ci sarà una fase orologio più i play-off da lì scaturiranno poi le eventuali società che potranno fare gli spareggi per la A2 quindi dipende se saranno una, due, tre questo non si sa sino a dicembre in base alla formula poi valuteremo se ci saranno le possibilità per fare gli spareggi per la A2 nazionale Squadra che è cambiata, comunque tante giovani Sì, la squadra è simile a quella dell'anno scorso va via a Solinas perché fa un Erasmus a Valencia e tornerà con noi nell'anno nuovo è arrivata una ragazza del 2005 quindi molto giovane da Carlo Forte per il resto il roster è similare noi lo facciamo alla B con tre senior in sostanza e tutto il resto under 18-16 Parlato di under 18, under 16 con giocato satire parliamo di giovanili proprio tra l'altro si sta cercando di puntare anche sui ragazzi Sì esattamente dopo diversi anni non so esattamente quanti in Mercedes abbiamo un'altra squadra maschile esattamente gli under 15 che è frutto di una collaborazione tra CMB Alghero e Pallacanestro Alghero quindi abbiamo messo insieme questi ragazzi classe 2005 che formeranno la nuova squadra under 15 e parteciperà al campionato regionale c'è un profondo cambiamento nella società perché abbiamo aperto la scuola mini basket peraltro vorrei ricordare che giovedì questo facciamo un open day che è aperto a tutti i bambini da 5 anni in poi per poter venire liberamente a provare il basket proprio perché vogliamo riprendere dalle basi quindi proprio dal fondo e ritirare su quello che è il settore femminile di cui la Mercedes ovviamente oggi è ben organizzata e anche il settore maschile ed è tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale vi lascio al meteo grazie per averci seguito arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti